Molto bene, torniamo a parlare di Pixel Fold. Negli ultimi video ho visto che c'è stato un po' di interesse e sono contento perché ribadisco, in Italia se ne parla veramente troppo poco, ho visto qualcosa all'estero ma non tanto. In questo video voglio soffermarmi su il software, perché di fatto alla fine, sì, al di là del doppio schermo è sicuramente un gran pezzo di hardware, la cerniera, quello che fa veramente la differenza è l'uso di tutti i giorni il software infoldable. E vediamo come è stato realizzato da Google. Innanzitutto vedremo le app che sono ottimizzate, quelle un po' meno, poi vedremo proprio le soluzioni che ha pensato Google per questo Fold e infine vedremo le mancanze e le criticità. Sarà un video piuttosto lunghetto, mi scuso, io prima di essere un creator sono un fruitore di YouTube e molto spesso i video più lunghi di 15 minuti non li guardo neppure io, però ci sono certi casi in cui serve andare un po' più in profondità e secondo me questo è uno di quei casi. Vorrei dividere questo discorso in vari blocchi. iniziando dalle app, cioè come e quali e se le app che io utilizzo sono state ottimizzate o meno, come è l'esperienza su questo pixel fold, in generale su un foldable perché diciamo che ovviamente tutti i miglioramenti che ci sono per le app generalmente si vedono anche su altri foldable. La velocissima premessa, ovviamente questo è il mio telefono principale, molte delle app che utilizzo mostrano quindi dati, conversazioni private, quindi mi dovete perdonare ma molte volte vedrete delle cose sfocate, delle cose che devo nascondere per la mia privacy, ma a livello di funzionalità tanto si capirà bene. Iniziamo da quelle ottimizzate. Questo è un lettore musicale che ho conosciuto, non conoscevo, mi serviva per utilizzarlo su Android Auto, in auto. Questo si chiama IMP e vedete che comunque ha una visualizzazione che ricalca bene o male quello che ci aspettiamo da un foldable, quindi a sinistra la canzone principale e a destra l'elenco di canzoni. Per esempio ne faccio partire una e vedete che a sinistra abbiamo quindi la canzone con i conoandi per il singolo brano e a destra invece abbiamo la lista delle canzoni, quindi questa è una buona ottimizzazione. Andiamo avanti e quindi vediamo per esempio la calcolatrice. Abbiamo sulla destra, in realtà ben oltre la destra, visto che questa è la cerniera, quindi non è proprio lo schermo diviso a metà, abbiamo quindi la possibilità di avere le nostre operazioni e sulla sinistra invece vedrete che abbiamo la cronologia di quello che abbiamo fatto, quindi anche qui una buona ottimizzazione. Andiamo poi su Google Drive e vedete anche qua che abbiamo la barra a sinistra e qui abbiamo le nostre invece cartelle personali. La barra resta anche entrando e navigando, quindi come proprio un vero file explorer. Questa invece è Google Home, vediamo ancora a sinistra la barra e a destra il resto dell'app. In questo caso funziona, come dire, nello stesso modo, nel senso che la barra rimane fissa, perché di fatto ogni volta ci spostiamo su una scheda diversa e quindi per forza di cose la barra deve essere sempre presente. Eccoci invece su Google Maps, direi qui molto bene come sfruttamento dello spazio, col piccolo problema di cui avevo accennato anche in un altro video che ora vi faccio vedere. Se noi per esempio impostiamo da Sassari a Cagliari, la strada la vediamo, vediamo anche tutte le opzioni anche per togliere i pedaggi o meno, però non c'è una cosa per cui io mi trovo molto comodo, tante volte utilizzo lo switch delle destinazioni, non so se capita ad altro, se voglio vedere quanto ci vuole invece da Cagliari a Sassari. Da qui sembra mancare questa voce, in realtà c'è e basta cliccare qua e vedete che accompagnano. Ecco, io per il mio gusto terrei questa visualizzazione sempre in modo che siano le icone sempre esplose, sempre presenti, in modo da non sembrare che non ci siano. Per quanto riguarda invece la tastiera, vediamo una cosa classica che ormai è introdotta da molto tempo e ne aveva approfittato anche i foldable di Samsung. Abbiamo la tastiera divisa in due in modo che sia più facile da tenere in mano e digitare e con le dita non bisogna andare troppo verso il centro, tutta questa parte centrale rimane vuota anche se poi in realtà resta lo spazio per la barra spaziatrice. Anche su Keep tutto bene, a sinistra la lista delle nostre note, a destra una colonna vuota che però ovviamente si riempie quando selezioniamo una nota. Quindi la divisione in due c'è, lo sfruttamento degli spazi c'è, c'è addirittura un passettino in più rispetto a messaggi e Gmail per esempio, perché se noi volessimo vedere a tutto schermo quasi la nostra nota, schiacciando questo tasto, vedete che ce la mette qua, centrale, più leggibile, e poi ovviamente possiamo tornare indietro e o vedere addirittura la lista delle note a tutto schermo o tornare alla visualizzazione in due colonie. Quindi secondo me a livello di perfezione siamo molto vicini e Google dovrebbe aggiungere questa funzione della freccetta anche in Gmail e in messaggi. Andiamo avanti con il menu delle impostazioni, invece qui tutto molto bene, vediamo che a sinistra abbiamo le voci principali e a destra cambia ovviamente il menu, diciamo, dei submenu, diciamo, dei sottomenu e qua a sinistra è navigabile, quindi sono due colonne indipendenti molto bene. Meteo è stata recentemente cambiata anche per i tablet, devo dire che è molto più carina e molto più bella, molto bene qua a sinistra abbiamo i giorni in avanti, quindi le previsioni per i prossimi giorni, qui invece possiamo vedere il dettaglio del nostro giorno singolo, quindi tutto bene. Altra app di Google, telefono, all'estrema a sinistra la barra con i preferiti, la cronologia chiamate, i contatti, quindi la rubrica, qui abbiamo, in questo caso siamo nella schermata delle chiamate, quindi le ultime chiamate ricevute e a destra possiamo vedere il dettaglio della chiamata con tutti i nostri dati, quindi anche qui devo dire diviso molto bene. Passo a WhatsApp che si comporta come Telegram, quindi a sinistra la lista dei nostri chat e a destra invece la chat selezionata. Preferirei anche un'altra cosa, su un caso in cui magari dovete far vedere una conversazione a qualcuno, quindi gli passate il telefono, ebbene se gli voglio far vedere questa conversazione qua, per forza la persona a cui do il telefono in mano vedrà anche la lista delle altre chat con le altre persone e avete qui un messaggio di vostro marito, vostra moglie, compagni, con dei cuoricini, un messaggio tutto mielense, ecco non è il massimo della vita, quindi a me piacerebbe che si potesse anche fare in modo che la chat possa andare a tutto schermo, in questi casi comunque bene, ribadisco WhatsApp come Telegram. Anche TikTok è bene realizzata, vediamo che abbiamo al centro il video, ovviamente questa è il form factor del video, però almeno ai lati le bande nere sono usate con intelligenza, abbiamo a destra i comandi relativi al video che stiamo vedendo, e a sinistra invece i comandi relativi al nostro profilo, quindi è un buon utilizzo da questo punto di vista. Se apriamo i commenti di un video, vedete che si mette di fianco e siamo veramente al top, perché è come se avessimo tre finestre aperte, i commenti, il video e la nostra barra. Degli strumenti, quindi direi che meglio di così non si può fare, brava TikTok. Waits bene a tutto schermo, non ha particolare criticità, devo dire che lo utilizzo molto sull'auto e meno da telefono, quindi quelle piccolezze che per esempio ho notato su Maps potrei non averle notate, però mi sembra andare tutto bene, devo dire che qui c'è il menu che richiama le località preferite, la ricerca di una nuova località, qui il menu contestuale in cui possiamo anche spegnere l'app. La rassegna dell'app ben ottimizzata, direi che finisce con Google Wallet, a sinistra abbiamo le nostre carte di credit o debit registrate, a destra invece le carte di programmi e fideltà, devo dire utilizzate abbastanza bene, poi se ne si apre una, ovviamente va tutto schermo con tutte le informazioni, anche perché c'è bisogno di avere la possibilità di farla vedere, diciamo, ai cassieri o comunque nei negozi. Un'altra app che funziona bene, io non la utilizzo Spotify, ma vi faccio vedere questo screen che ho preso da YouTube, devo dire che anche questa l'ho vista, o il video è ottimizzata bene, quindi anche per Spotify è un punto a favore. Passiamo invece alle app che io dico sono ottimizzate a metà. Per quanto riguarda Google Calendar dico a metà perché? Perché mi manca un po' la visualizzazione che ha Samsung. Samsung ha, diciamo, la visualizzazione in alto la settimana e in basso i vari eventi che tu hai nel giorno selezionato. Faccio un esempio molto pratico. Per esempio oggi, che sto registrando il 18, ho questo evento qua, ma non lo posso vedere, vedo solo un inizio e mi dice qualcosa e qualcosa. Se invece questo calendario fosse più compresso e qui sotto io avessi la voce, per me sarebbe molto meglio, perché vedrai l'orario più velocemente rispetto che incrociare l'orario. E poi ovviamente vedrai tutto. Questo capisco relativamente cosa sia, magari mi viene in mente, ma insomma preferisco la visualizzazione di Samsung. A parte invece che mi piace, quando si va nel dettaglio di un evento, quindi lo si schiaccia e lo si apre, vedete che a sinistra quindi si vede l'evento, a destra rimane il calendar, quindi molto bene da questo punto di vista, è molto utilizzabile. Per quanto riguarda Files, bene il menu a sinistra, però poi quando entriamo in una voce sparisce. Questa cosa non mi piace perché sarebbe utile già averla qua, per esempio continuare ad averla qua in seconda battuta, ma pensate soprattutto se si entra in una cartella come questa. Se io adesso volessi passare da questa cartella direttamente alla cartella immagini, se avessi qua la barra con il menu memoria interna e le sottocartelle sarebbe un attimo. E invece devo tornare indietro a memoria interna, trovare la cartella che voglio ed entrarci. Ecco, si può fare ancora di meglio. Qui siamo in Google Photo, quindi altra app di Google. Abbiamo sulla sinistra la barra e anche qui comportamento secondo me a metà perché una volta che ci spostiamo all'interno di un'altra voce, vedete che scompare la barra a sinistra e l'unico modo che abbiamo per richiamarla è tornare indietro. Passiamo poi a Gmail, anche questo l'avevo utilizzato nell'altro video, bene la divisione a metà. Certo è comodo poter aprire un'app sulla destra e scorrere la mentre qui rimane la lista delle altre mail. Mi piacerebbe però in alcuni casi, magari quando c'è un'immagine, avere anche la possibilità di espanderla a tutto schermo, cosa che non abbiamo, vedete, da nessuna parte. Per quanto riguarda messaggi, bene o male ritroviamo la situazione di Gmail, quindi a sinistra la lista, a destra il messaggio vero e proprio, che però non si può aprire e quindi o abbiamo la visualizzazione in due colonne o abbiamo la visualizzazione in due colonne. La cosa positiva è che se dentro un SMS avete un link e cliccate il link, lui lo aprirà direttamente nell'app Messaggi, quindi dividendo lo schermo, a sinistra Chrome con il link aperto e a destra l'SMS originale. Siamo in un'altra app di Google, in questo caso Google News, e abbiamo sostanzialmente un comportamento di quello che abbiamo visto in files perché ce l'abbiamo la barra a sinistra ma se entriamo in una notizia la barra a sinistra scompare quindi per ritrovarla dobbiamo tornare indietro. Io preferirei ci fosse sempre, lo spazio c'è tutto sommato, in modo da poter vedere al volo anche passare dalle schede per te, notizie, segui, edicola, velocemente senza dover tornare per forza alla home. Play Store, torniamo al solito discorso di prima, abbiamo la barra a sinistra ma se entriamo in un'app la barra a sinistra scompare e non possiamo muoverci in prima battuta sempre da giochi a app a libri. Una volta che siamo in app guardiamo tutte le app, dobbiamo tornare indietro alla schermata principale e da lì possiamo passare eventualmente a giochi o a libri. Una cosa buona, e l'avete già vista probabilmente prima, è che aprendo una singola app, a sinistra avremo la singola app aperta in dettaglio e a destra le altre app da provare quindi buona ottimizzazione degli spazi. Aliexpress è un caso più unico che raro però si apre in Portrait, quindi per vederla non avete altra soluzione che girare il telefono. In questo caso si sente la mancanza delle funzioni appunto che ha per esempio Samsung di forzare la visualizzazione di un'app che starebbe benissimo anche in questa maniera qua, anche in Landscape. Non bene neanche Facebook, vedete che non sfrutta tutto lo schermo e ai lati ha delle bande nere. Manco a dirlo perché di fatto stiamo parlando della stessa applicazione, anche Messenger di Facebook non è sfruttato bene, vedete che ci sono sempre queste barre laterali. Ora arriviamo secondo me nel caso peggiore e fa specie perché parliamo di Fitbit che è un'app che adesso è di Google, è postitura Google, eppure guardate come si apre, cioè sembra di avere in mano un telefono chiuso, cioè non è neanche un minimo, un minimo, come dire allargata e quindi veramente molto male da questo punto di vista, Fitbit deve fare veramente ripassi da gigante. Instagram, sappiamo che è una delle app realizzate peggio per Android e qui si conferma, ma vedete quanto spazio ci sarebbe per poter utilizzare, sfruttarlo meglio. Poi ribadisco, se si potesse forzare come fa Samsung, magari non si vedrebbe interamente la foto perché Instagram è quadrato, lo schermo no, però sarebbe comunque tutta un'altra cosa vedere una foto quasi tutta, ma tutto schermo, piuttosto che vedere queste tristissime bande laterali nere. Sulla scia di Fitbit e Instagram si diano anche PayPal, vedete, è uguale, manco si accorge che siamo su un, non dico su un phone, ma manco su un tablet, evidentemente non è neanche pensata per i tablet. Andiamo a un'altra app di Google che è quella che è Watch, che gestisce, diciamo, i smartwatch che non hanno un'app proprietaria. Benino il fatto che sia tutto schermo, quindi almeno sfrutta tutto schermo, non abbiamo delle bande, però è un peccato che non si comporti, come per esempio si comportano le impostazioni del telefono, nel senso che se tu entri qua, sarebbe bello avere sulla sinistra il menu principale che è questo e sulla destra il sottomenu. Chiudo con XX Twitter che essenzialmente sembra Facebook, nel senso che non è stretto come Instagram, però vedete che comunque lascia delle belle bande laterali lateralmente, quindi secondo me non è ottimizzata e va migliorata. Bene, ora passiamo invece alle soluzioni software di che Google ha pensato per questo Pixel Fold, e direi di iniziare dalla barra, la barra, diciamo, delle attività, se così vogliamo chiamarla, che per esempio su Galaxy Fold può anche essere resa persistente, mentre qui viene richiamata al momento, ed eccola qua che sbuca fuori. Inizio dicendo che c'è una struttura che avevo già evidenziato, cioè che qui vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6 app più la possibilità di poter andare a tutta la lista delle app. 6 app abbiamo detto, benissimo. Perché se io chiudo il telefono e ho invece 5, tenete conto che la doc di cui stiamo parlando adesso replica in toto quella che è la doc che avete in questa home page. Quindi io qui ne ho 5, apro il telefono e non sei. E beh, questo comporta che io vedete, ho questa app qui come se è stata aperta e qua non avevo lo spazio perché sono 5 e cosa ho dovuto fare? Ho dovuto inserirla in questa cartella perché mi è comodo averla più o meno in prima battuta. Insomma, è un ragionamento che faremo anche dopo sulla gestione che Google ha pensato delle home per questo fold che non mi convince tanto. Una cosa però posso dirla positiva di questa doc è che sostanzialmente replicando la doc di sistema se noi andiamo qua e per esempio teniamo premuto Play Store vedete che vi dà la shortcut e la da di qualsiasi app ha una shortcut cosa che invece il fold non ha perché di fatto è una doc in più è una barra dell'attività non è esattamente la doc di sistema che avete in home e quindi se tenete schiacciato non fa niente. Passiamo invece al multitasking cioè la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente anche qui c'è purtroppo pochino da dire nel senso che sostanzialmente il multitasking che abbiamo sul pixel fold è quello che potete trovare su qualsiasi altro telefono Android stock ovviamente al netto delle personalizzazioni dei vari produttori perché? Perché se noi appunto apriamo un'app possiamo chiamarne un'altra e metterla qua in finestra e finisce sostanzialmente qua nel senso che sì possiamo un po' ridimensionarle ma schiacciando qui non succede nulla cosa che invece sui Samsung per esempio dà la possibilità di switcharle velocemente di aprirle diciamo due in orizzontale invece che due in verticale e insomma ti dà delle altre possibilità che questo pixel fold non ha oltretutto questo è il numero massimo di finestre che possiamo aprire perché non c'è la possibilità di andare in pop up nel senso che se provo a far così vedete che lui mi dice o la metti di qua 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 sui Samsung andando al centro ti si aprirebbe in pop up e quindi avremo una, due, tre app aperte insomma da questo punto di vista siamo veramente carenti e veramente troppo limitato cosa possiamo dire però di sicuro è evidente che questo phone factor con la divisione a due colonne che è appunto l'unica che abbiamo però è molto bella perché è perfetto sembrano due app le app ormai sono scritte quasi tutte così sembrano due app fatte apposta per essere qua e vedete come si scorre infatti bene da questo punto di vista niente era dire però serve veramente potenziare per dividere l'app in questo modo abbiamo visto che possiamo appunto richiamare da qui e poi da qui spostarla di qui o di là abbiamo la possibilità anche ovviamente richiamare qualsiasi app e fare allo stesso modo e metterla quindi di qua un'altra possibilità è quella di andare invece proprio nel multitasking e quindi da qui per esempio dire mettimela a schermo diviso quindi lui me la tiene qua e dice sceglimene un'altra e a quel punto poi lui l'apre in due schermate un'altra cosa interessante del multitasking è quella che se avete in questo caso abbiamo Chrome è un'app aperta anzi un'app aperta è Chrome a questo punto se voi andate nel multitasking vedete che vi salva come qua la coppia di app aperte quindi finché rimane in RAM diciamo questa coppia di app aperte allora potete anche richiamarle e lui verrà automaticamente divisa in due una cosa molto interessante nel multitasking è quello del drag and drop tra app per ora poco supportato però speriamo che visto che c'è questa funzione venga estesa faccio un esempio molto pratico supponiamo che siamo per esempio su Chrome sul nostro browser abbiamo questa notizia vogliamo inviarla a qualcuno o magari a un'app come per esempio questa è Keep noi la teniamo schiacciata vedete che viene questo layer blu che vuol dire che quest'app è pronta a ricevere ci spostiamo direttamente qua e lui apre automaticamente una nota e la salva quindi molto veloce questa cosa funziona ottimamente anche verso Whatsapp per esempio verso Telegram verso messaggi ed è molto utile anche per esempio in caso di foto andiamo a vedere ecco qua a sinistra abbiamo un video nell'applicazione Google Photo magari vogliamo inviarlo al nostro contatto stesso discorso teniamo schiacciato vedete che è pronto a ricevere e lui praticamente vedete che è preparato il messaggio multimediale facciamo invia e va quindi questo ci risparmia molto tempo da questo punto di vista ed è molto comoda come funzione ribadisco funziona anche con Keep con Whatsapp con Telegram con foto con Google Files e quindi permette lo spostamento diciamo drag and drop da un'app all'altra ultima cosa a livello di multitasking la tendina delle notifiche che è divisa in due quindi a sinistra abbiamo i toggle rapidi e le cose che riguardano magari appunto i contenuti multimediali o home e a destra abbiamo le notifiche tutte le nostre notifiche quindi bene la divisione che però per una roba alla Google se noi giriamo il telefono in portrait non è più così evidentemente Google crede che questo larghezza non sia abbastanza per dividere in due lo schermo non sono molto d'accordo però insomma volevo farvelo vedere vediamo altre cose altre soluzioni per aumentare diciamo l'usabilità dello schermo interno che è più grande che ha pensato Google nelle app come Instagram che non sfruttano appena la larghezza con il doppio tap la puoi spostare a sinistra o destra perché così è più comodo averla per un destro o per un mancino sottodito diciamo e quindi è più facile usarla magari scorrere resta che una volta spostata un'app a destra o a sinistra poi qualsiasi altra app dello stesso formfactor si aprirà così vedete che Instagram si riapre a destra se io sposto del tutto a sinistra Instagram e rivado qua si riapre a sinistra quindi c'è questo fattore del spostamento che poi rimane alloccato e bisogna rispostarlo manualmente c'è poi la possibilità insomma di trasformare il telefono quasi in un mini laptop e non viene utilizzata da molte app per esempio una sicuramente è la fotocamera che apriamo subito vedete che abbiamo vedete che da una certa posizione in su lui dividerà lo schermo esattamente in due sotto metterà i comandi e sopra invece inquadra quello che sta inquadrando la fotocamera posteriore un'altra app che lo sfrutta è YouTube una volta aperto un video vedete che quindi abbiamo sostanzialmente la parte del video qui in alto in alto e qui sotto invece potete vedere gli altri video oppure navigare tra i commenti o appunto commentare a maggior ragione non uso Google Meet ma vi faccio vedere uno screen e funziona anche per Google Meet questa cosa non si può forzare sul Galaxy Fold si può forzare questa visualizzazione in ogni app a quel punto per le app che non hanno prevista una modalità laptop viene in basso aggiunta una possibilità di utilizzare dei comandi quindi come usare la parte inferiore dello schermo come fosse una specie di trackpad e quindi muoversi e altre toggle rapidi tipo la luminosità insomma cose che onestamente anche quando utilizzavo Galaxy Fold ho utilizzato poco però come dire fa capire che c'è dietro un pensiero in più come si può forzare questa modalità tra virgolette si può fare nelle app che prevedono la scrittura per esempio proviamo a scrivere una nota su Keep vedete che a questo punto si divide in due lo schermo tieni la tastiera in basso e la porzione dove scriviamo sarà in alto quindi sembra veramente un piccolo laptop piccolo bug credo scelta perché così anche sul Galaxy ho verificato io ho le gesture per tornare indietro e con questa modalità qui niente lui anche se ti fermi prima di schiacciare la L o la P non va indietro l'unico modo per tornare indietro è abbassare la tastiera e a quel punto tornare indietro questa mancanza della Portrait Mode secondo me si sente in tantissime app perché comunque la piega in questo caso si divide ed è molto brutta prendete le foto come in questo caso io apro questa foto qua e vedete che la piega è proprio in mezzo quanto starebbe bene questa foto qui in alto e qui sotto anche solo questi comandi nulla di più però a meno non vederla tagliata ti fa un altro effetto insomma e vale anche per altre app come può essere quelle di messaggistica insomma sarebbe meglio ripensare anche questa modalità chiudo con quelle che io chiamo bug o mancanze anche se ne abbiamo già viste in realtà nel corso del video però non sapevo bene dove categorizzarle è una cosa che mi dà veramente fastidio io è la prima volta che uso un pixel veramente come il mio primo device e ho scoperto la possibilità di avere le gesture soprattutto la possibilità di fare questo toc toc nella parte posteriore dello schermo per avviare una serie di attività praticamente se noi andiamo in sistema gesti e facciamo tocco rapido io ho scelto di fare il tocco rapido vedete con un doppio tap sulla parte posteriore dello schermo e fare uno squish ho anche attivato l'opzione richiedi tocchi più decisi è una funzione che hanno tutti i pixel allora perché ne parlo per il fold perché per il fold è una cosa particolare se lo tenete molto aperto molte volte a me tendo io quindi ad appoggiarlo ed essendo molto largo ed essendo molto pesante molte volte inizierà a traballare e essendoci ovviamente il gap della fotocamera e questo traballare lui lo interpreta come se ho avessi fatto tap tap quindi io per esempio lo metto così faccio così però lui lo interpreta come un tap tap e mi fa lo screenshot e ho il dispositivo pieno di screenshot perché lui li fa a caso completamente quando non mi servono un'altra cosa che per esempio verificato non accade con il galaxy fold è la possibilità quando noi diciamo per esempio stiamo schiattando una foto vogliamo far vedere lo schermo utilizzare quindi per un selfie la fotocamera posteriore e quindi facciamo così e utilizziamo questa fotocamera e quindi noi possiamo vederci qua una volta che però noi scattiamo questa bella foto per esempio l'abbiamo scattata e magari è bellissima foto tra l'altro voglio vederla sullo schermo grosso posso vederla sullo schermo grosso torniamo indietro non si può fare niente lui è bloccato sullo schermo posteriore quindi cosa puoi fare per tornare qui torni indietro lo sblocchi lo apri a quel punto puoi tornare ad utilizzarlo anche dentro sul fold invece c'è proprio la possibilità di dirgli no guarda voglio tornare a utilizzare questo schermo interno gli dai uno slide e lui ti porta allo schermo interno dicevamo prima di un aggiornamento da fare sul pixel launcher che ha tante mancanze ma non è questo il luogo per parlarne perché voglio parlarne a livello di fold secondo me la scelta che si riflette anche nella doc di replicare esattamente quello che c'è fuori dentro è sbagliata perché comunque io qua ho una pagina due pagine tre pagine quattro pagine cinque pagine di widget benissimo quindi io apro e cosa abbiamo qua qui abbiamo una o due pagine ovviamente qui è vuoto da widget e quindi fuori non si vede ma è considerata una pagina terza quarta pagina e quinta sesta pagina se qui io però metto un widget comunque ha un sacco di spazio vuoto qui ci starà bene no? cosa succede però se io vado di qua? io chiudo il telefono e mi sarà aggiunta questa pagina che però è completamente vuota cioè lì all'interno ha un senso all'esterno qui non ha senso perché comunque vedete che c'è un sacco di spazio e non è come qua che comunque quello spazio ci sarebbe in ogni caso perché lo schermo è l'arco il doppio quindi io onestamente preferisco la gestione che ha Samsung con il launcher perché sicuramente all'inizio nella fase di configurazione devi configurare una home per lo schermo esterno e una home per lo schermo interno che hanno diversi widget diversi spazi diverse app poi però una volta che hai utilizzato quella secondo me lo sfrutti meglio da lì in avanti una cosa molto interessante che spero arrivi anche in Italia che è stata annunciata dovrebbe arrivare con Android 14 è il dual translate nel senso che è una funzione che promette di scrivere un testo o parlare e far vedere alla persona che hai di fronte il testo tradotto tramite lo schermo posteriore quindi pensate che io qui sono in vacanza o comunque devo interfacciarmi con una persona di cui non conosco la lingua qui parlo e viene fuori magari quello che sto dicendo io o scrivo e l'altra persona esternamente vedrà direttamente quello che io sto scrivendo tradotto nella sua lingua e a quel punto succederà anche il contrario lei o lui risponderanno e io vedrò dal mio lato di schermo invece la risposta tradotta in italiano insomma è una funzione veramente importante per chi viaggia ma non solo è stata annunciata dovrebbe arrivare con Android 14 speriamo che sia anche in Italia perché sapete che poi in Italia non arrivano le cose quasi subito tenendo conto anche che questo device non è venuto in Italia ho poche speranze nell'arrivo immediato però magari in futuro lo avremo abbiamo visto quindi qualcosa in più su questo Pixel Fold magari vi ho chiarito un po' di più le idee e ho cercato di spiegare quello che secondo me sono le sensazioni nell'uso daily quotidiano e spero veramente che Google faccia il passo in avanti nei prossimi mesi già con Android 14 perché si sente veramente la mancanza di funzioni basilarie a noi che stia chiedendo chissà cosa che però abbiamo già visto altrove e quindi credo sarebbero molto facili al di là ovviamente di sviluppatori che devono impegnarsi con le app e devono essere come dire esortati da Google a migliorare perché comunque i foldable sono sempre di più ne escono sempre di più di tante marche diverse e quindi secondo me serve anche migliorare da quel punto di vista come sempre se avete dubbi questioni e altre cose basta che lo scrivete nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo